Ciao ragazzi, buongiorno, oggi facciamo un video un po' diverso dal solito dove sarò io come protagonista al posto di Matteo voglio raccontarvi un po' come può essere una mattinata di lavoro qua da Gearworks come puoi vedere siamo arrivati in sede e andiamo a disturbare i nostri ragazzi che ovviamente stanno lavorando magari ci facciamo spiegare un po' le macchine su cui stanno lavorando facendo chiacchiere con Matteo facciamo un video un po' più allegro diciamo che sono contento e siamo contenti dei risultati che man mano stiamo avendo col canale stiamo portando inizialmente dei contenuti un po' più seri dove spieghiamo diciamo in maniera un po' più tecnica diciamo dei problemi generalmente che possono avere le auto che arrivano in officina è molto bello secondo me ascoltare l'esperienza di Matteo che negli anni ha maturato insieme ai ragazzi andando a migliorare sempre di più ovviamente gli interventi che vengono fatti sulle auto bene ragazzi adesso non ci resta altro che andare dentro e disturbare un po' Matteo questo come avete già visto è l'ingresso fatto molto bene guardate che bella la sala d'attesa guardate che bello e qua adesso andiamo a vedere che stanno lavorando andiamo a vedere magari su che cambio stanno lavorando in questo momento adesso lo disturbiamo senza sapere che c'è ciao ecco qua il nostro Matteo stai lavorando su un cambio è un po' emozionato eh adesso lo vedete ho fatto la boccola guarda voglio vedere ok abbiamo rifatto la boccola nei cambi Volkswagen si rovina abbiamo rifatto la boccola ok oggi lo vedete in una forma un po' più allegra dei soliti video un po' più seri questo qua che cambio è? è un cambio cos'è che è una 4 a 4 manuale ok ah manuale ok si 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 manuale e ci hanno di difetto che prende gioco qua e poi si muove tutto l'albero adesso stanno rifacendo gli spessori questa qua è tutta l'officina dove generalmente avete visto la maggior parte dei video dove anche qua vanno a aprire e revisionare tutti i cambi tu adesso cosa devi fare? cosa stai facendo? è il cambio TCT alfa ah doppia frizione alfa e tu in questo caso lo stai aprendo la già è aperta è tutto aperto cambiamo la più frizione e revisioniamo la parte meccanica interna ah guardate ragazzi quanti pezzi io la prima cosa che ho fatto quando sono arrivato qua ho visto che aprivano un cambio è rimanerci talmente tanto sorpreso dal fatto dei mille mille componenti che compongono un cambio e soprattutto con la precisione con i quali il suo team lavora perché io diventerei imbato veramente devi avere una concentrazione incredibile vabbè adesso dall'officina principale dove vengono aperti tutti i cambi andiamo a vedere cosa troviamo qua nell'officina dove poi arrivano le auto e come potete vedere c'è tutto il casino possibile perché qua generalmente smontano le auto le riparano tolgono come possiamo vedere il cambio il motore tutto quello che c'è da sostituire viene fatto qua la parte meccanica per poi portare di là ovviamente il pezzo che è da revisionare andiamo al nostro Zambe che sta cambiando le molle a questa bellissima mini quale vai a mettere? ho messo le e-back si stella ma anche il mio fratello adesso che si me l'ha detto stiamo sistemando due robe stasera siamo in chiusura stasera chiudiamo e andiamo in vacanza tutti a me ci sta dopo un bel po' di tempo si lavora a tempo pieno direi che un po' di vacanze ci stanno però come vedete stiamo registrando lo stesso così durante le vacanze il Matteo lo vedete che bella che è questa mini con cerchi fond metal 9RR guardate anche qua tutti i freni veramente bella cotto dovrebbe essere quattro pompanti questi assolutamente un gran bel mezzo poi qua oggi hanno un po' di tutto hanno questa Mercedes hanno quest'Audi ci sono là vabbè le due macchine del TCR che andiamo a vedere così una sbirciatina in più rispetto a quella che abbiamo già dato e adesso vediamo una piccola sbirciata che queste sono sempre belle da vedere se vi ricordate questa senza grafiche è quella con il DSG il cambio DSG guardate che bella anche negli interni vedete che monta il DSG sono veramente spettacolari vederle averle viste in pista a correre ragazzi è stato qualcosa di straordinario sicuramente ovviamente sul canale arriveranno anche altri video che parleranno ovviamente di tutto il passione che ci sta dietro di tutto il lavoro che ci sta dietro con queste auto mentre questa è quella col cambio sequenziale aspetta il rientro disastroso no no dai ci sarà il problema è la chiusura la chiusura perché tutti impazziscono abbiamo dei clienti che da due anni che dovevano riparare la macchina e col covid scusa covid arrivano l'ultimo secondo e vabbè adesso ne abbiamo fatte ne abbiamo riparato una marea di macchina a giugno a luglio e poi qua abbiamo la nostra mascotte ciao mango guardate che bello bellissimo e bravissimo uno spettacolo lui è il nostro portafortuna durante i video questa ragazzi è la mercedes del cambio che abbiamo parlato in un ultimo video potete vedere qua hanno tolto tutto e poi quando il cambio sarà preparato e sarà pronto andano a riposizionarlo Matteo farà la salita prova come abbiamo visto con il video della BMW e poi se la macchina sarà a posto la riconsegnerà al cliente vabbè ragazzi come potete aver visto vabbè è una mattinata abbastanza tranquilla prima di chiudere vogliamo parlare e chiedere al grande Matteo hai delle anticipazioni sui prossimi video che vogliamo portare allora mi hanno chiesto tanto il DSG 7 marce 0 AM che è col suo col ferro è anche nuovo no quello con le frizioni a secco ok che è la 1.4 benzina 1.6 diesel ma più che altro i cambi Volkswagen mi chiedono tanto perché comunque sono più appassionati quindi no poi è vero tanti comunque che possiedono una Volkswagen anche comunque sportiva tendono a comprare quel cambio automatico quindi diciamo che è un argomento sicuramente molto seguito e ci sta a portare un po' di video diciamo a tema sì poi vabbè sarà bello fare un video su un cambio ibrido per far vedere com'è che ne abbiamo uno al limite un giorno cosa intendi per cambio ibrido abbiamo dei cambi della 4 ok 3000 diesel mi sembra che hanno praticamente il motore elettrico davanti c'è un doppia frizione però anche il motore elettrico davanti è la prima volta che lo sento ovviamente non sono un motore elettrico abbiamo un po' l'esperto che conosce tutti i cambi in particolare sì sì vabbè quello interessante perché a chi piace la meccanica è interessante vabbè ragazzi qualche piccola anticipazione iscrivetevi al canale ovviamente per non perdervi i prossimi video e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi ciao